Se siete interessati all'aggiunta di soldi nei vostri account contattatemi in chat privata dove potrete visionare i listini Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove si torna a parlare di GTA 6 per alcune informazioni e rumors che sono uscite Vi spiegherò perché il primo post che parla appunto di GTA 6 a quanto pare un leaker che ha fatto una beta test su GTA 6 ci ha dato delle informazioni sia fake E poi ragazzi in seguito andremo ad analizzare una notizia invece vera che trovate anche su Instagram cercando il profilo di CJ dove appunto ha dissato Rockstar Praticamente li ha insultati apertamente e insomma li ha criticati poi per i motivi che vedremo Comunque ve lo cercherò di riassumere in breve e trovate tutto quanto in descrizione Quindi il primo post è questo qui di questo presunto beta tester insomma che ha provato a detta sua Red Dead Redemption 2 all'epoca E GTA 6 invece su PS5 ovviamente secondo lui su un dev kit di PS5 In questo post ci spiega principalmente che le meccaniche di gioco di GTA 6 saranno simili a quelle di Red Dead Redemption 2 E insomma ci dice tutti quanti i particolari grafici e tecnici Vi posso dire subito che secondo me è fake perché penso sia abbastanza ovvio Prima cosa perché i post di Reddit sono quasi sempre fake Sono cose inventate diciamo E poi perché ragazzi Rockstar ha per chi non lo sapesse denunciato per 500.000 dollari Un ragazzo che stava moddando Red Dead Redemption 1 quindi che è uscito 10 anni fa che era solo su PS3 e Xbox 360 E lo stava cercando di riportare su PC tramite un emulatore almeno questo da ciò che ho capito E lo stava quasi denunciato per 500.000 dollari E parliamo di un gioco di vecchio di 10 anni fa Quindi figuratevi un gioco che deve ancora uscire come GTA 6 Che sicuramente rivoluzionerà la nuova generazione dei giochi Poi ci dice 3 nomi delle città perché dice che sarà divisa la mappa in 3 stati E sarà enorme rispetto a quella di GTA 5 che lui la considera come una specie di parco giochi Per farci capire la differenza di grandezza tra le due mappe Ovviamente ci saranno 3 stati come vi ho detto Per passare da uno stato all'altro dovremo utilizzare l'aereo Quindi dovremo andare all'aeroporto e prendere l'aereo Ci saranno vari mezzi di trasporto anche mezzi pubblici normalmente come l'autobus, i tram e via dicendo Ci dice i 3 nomi degli stati e delle città La prima si chiama Karcher City che è ispirata a Boston La seconda Vice City che è proprio quella di Miami E la terza non se la ricorda che invece è Scout County Vice City per chi non lo sapesse, per chi si fosse perso il video o comunque lo trovate sul canale È ufficiale ragazzi che Rockstar ci sta lavorando Quindi probabilmente sarà su GTA 6, sarà incentrato su Vice City Insomma per chi non se lo ricordasse hanno fatto vari scouting per gli interni degli edifici che si trovano a Miami Quindi è uscito proprio il documento ufficiale Più ci sta un podcast in cui una tizia ne parla E quindi praticamente sicuramente ci sarà Vice City Invece in quest'ultima parte ragazzi ci parla dei veicoli che ha incontrato Cazzeggiando nel gioco E ci dice che non ha incontrato veicoli già presenti su GTA 5 e su GTA 4 Solamente un'Infernus modernizzata ed alcuni veicoli del modello Sabre Quindi ad esempio la Sabre Turbo Ovviamente a detta sua le abilità, le statistiche, tutte queste robe qui erano abbastanza incomplete Perché era solamente un beta testing del gioco Vi ripeto non ci perdo più tempo perché a me questa roba sembra veramente una cavolata pazzesca Perché vi ripeto basta semplicemente pensare ciò che ha fatto Rockstar a quel povero ragazzo che stava moddando Red Dead Redemption 2 Non facendo nulla di illegale praticamente stava solamente riportando un gioco praticamente morto su PC Per fatti suoi quindi non è che stava facendo qualcosa per la community E Rockstar l'ha praticamente quasi distrutto Ultima notizia che è vera ragazzi Come vedete siamo sul profilo di Mailinu che sarebbe CJ E come vedete ultimamente stavano uscendo tantissimi rumors Soprattutto sugli youtuber americani Negli youtuber americani che fanno clickbait Che appena esce una notizia di qualche testata giornalistica Ho scritto CJ GTA 6 Ci fanno 200 video dicendo che CJ sarà presente su GTA 6 E quindi tantissimi fan di GTA San Andreas e di GTA in generale Sono andati sul suo profilo a domandarglielo di persona Lui ha risposto facendo questo post appunto che parla di GTA 6 Dicendo che lui non sarà presente nel gioco E praticamente insulta abbastanza pesantemente quelli di Rockstar Games Lamentandosi del fatto ragazzi che non l'hanno pagato abbastanza E quindi non collaborerà più con loro Questa cosa è già successa con altri attori Quindi altri doppiatori come ad esempio quello di Nico Bellic Di cui adesso mi sfugge il nome E quello di Tommy Versetti Che era appunto presente nelle vecchie edizioni insomma di GTA Comunque persone che hanno fatto la storia della saga E sono state trattate a detta loro da Rockstar Secondo me qua CJ ha un po' esagerato Perché alla fine lui nel 2004 Il gioco è del 2004 Sicuramente le politiche adesso di Rockstar saranno cambiate Perché non ho visto particolari lamentele Da parte di Michael Franklin e Trevor Che anzi quasi ogni sera fanno una specie di talk show Dove gli fanno domande e loro rispondono Ed è proprio da questo talk show che è partita questa roba di CJ Perché Michael, cioè scusate Franklin ha detto che Visto che è suo cugino nella vita reale Ha detto che aveva un progetto in arrivo con lui E quindi sono partiti insomma questi rumor E CJ insomma non l'ha presa per nulla bene E quindi secondo me dovrebbe abbassare un po' la cresta Perché alla fine è stato Gli è stata data una possibilità di farlo diventare ciò che adesso Perché ragazzi adesso è anche un produttore musicale Da quello che ho capito Un mezzo rapper L'ha fatto solamente grazie a Rockstar Quindi fatemi sapere cosa ne pensate voi Spero che questo video vi sia piaciuto Queste qua sono tutte le ultime notizie su GTA 6 Ve le ho raggruppate Vi ringrazio con la notizia e noi ci vediamo al prossimo video Ciao